In questo video affrontiamo un argomento di vitale importanza per noi tutti, che prescinde sia dall'età anagrafica sia dall'età lavorativa. Mi riferisco chiaramente alla pessima situazione del sistema pensionistico italiano. È un tema che spesso viene trascurato oppure sottovalutato, ma è cruciale oggi come oggi rendersi conto della realtà, farsene una ragione e agire prontamente per cercare di garantirsi un futuro finanziario il più possibile sereno. Attraverso le analisi di fatti, numeri e proiezioni cercherò di fornire un quadro chiaro che vi farà capire l'urgenza di prendere coscienza di questa situazione e di attivarvi per proteggervi. E naturalmente, sempre con i numeri alla mano, vedremo quella che io ritengo essere la soluzione preferibile per non rischiare di trovarsi in età pensionabile con un pugno di mosche in mano. Come probabilmente sapete, il futuro delle pensioni non è affatto roseo. Il trattamento di base sarà insufficiente come importi e anche molto lontano nel tempo. È quindi essenziale assumere un ruolo attivo per garantirsi una sicurezza finanziaria in età avanzata. Stando alle proiezioni degli esperti, il trattamento di base che il sistema pensionistico può offrire sarà sempre più inadeguato nel corso degli anni. È una situazione preoccupante ovviamente, considerando che la speranza di vita continua fortunatamente ad aumentare, ma i costi di mantenimento in età avanzata sono però in costante crescita. Facciamo due calcoli. Un giovane tra i 20 e i 25 anni che inizi oggi a lavorare andrà in pensione non prima del 2077 con un assegno di circa la metà rispetto all'ultimo stipendio. La situazione non è migliore per chi lavora già da anni. Ad esempio, chi oggi ha circa 55 anni e lavora da poco meno di 30, andrà in pensione non prima del 2037 con un assegno decurtato tra il 20% e il 30% nei casi più fortunati. Non di meno le stime ci dicono che entro i prossimi 20 anni l'assegno pensionistico medio sarà notevolmente ridotto rispetto a quanto potrebbe essere necessario per vivere in modo dignitoso e al momento purtroppo non si travede una via di uscita. È quindi chiaro che non possiamo più contare unicamente sul trattamento di base, anzi a mio modo di vedere meno ci contiamo e meglio è. Ecco perché è necessario comprendere che l'autonomia finanziaria è l'unica speranza che abbiamo per provare a superare questa difficoltà, la difficoltà del sistema pensionistico italiano e provare quantomeno a metterci al riparo da difficoltà economiche, pressoché certe viste questi numeri e per di più ad un'età che dovrebbe invece essere quella della meritata tranquillità. Chi mi segue da tempo sa bene che io ormai da un bel po' ho creato quello che chiamo il mio fondo pensione personale con il quale sto costruendo la mia rete di salvataggio per gli anni in cui smetterò di lavorare e a ben guardare se avessi iniziato ancora prima sarebbe stato anche meglio. Ma se non si è un po' preparati sulla materia degli investimenti è pericoloso avventurarsi soprattutto per somme che devono sostituire la previdenza sociale ed è per questo che veramente invito i giovani a mettersi subito all'opera informandosi, studiando e imparando a gestire i propri averi. Bisogna acquisire le capacità e le conoscenze per investire in modo oculato e costruire un fondo pensione personale che sia solido e il più possibile sicuro. È un impegno che richiede tempo sicuramente, impegno proprio di studio, di ore dedicate, di consapevolezza ma credetemi ne vale davvero la pena. Io ho avuto la fortuna di nutrire passione per la finanza e gli investimenti non troppo in là negli anni ma ci è voluto comunque del tempo per imparare e in questo caso prima si impara e meglio è. Oggi le informazioni di certo non mancano però spesso ci troviamo di fronte a delle proposte superficiali. Anche gli esperti del settore raramente affrontano questo problema molto spinoso in modo approfondito e quando lo fanno si limitano però a dire che bisogna imparare ad investire in autonomia senza però fornire soluzioni mirate e soprattutto pratiche per affrontare specificatamente la sfida sulla previdenza che ci tocca a me affrontare. Certo è assolutamente vero che l'investimento in autonomia può essere un'ottima strategia per garantirsi una futura solidità finanziaria ma è fondamentale avere delle soluzioni specifiche allo scopo previdenziale. Non basta elencare semplicemente tutti i possibili strumenti e tutti i possibili prodotti di investimento. Questo a mio parere non va bene perché suggerire l'uso di strumenti finanziari generici senza fornire un quadro completo soprattutto come dicevo specifico alle esigenze della previdenza corrisponde in fatto a suggerire di lanciarsi in un oceano di opportunità finanziarie senza però avere una bussola o una mappa per orientarci. La verità è che abbiamo bisogno di una strategia previdenziale che consideri i fattori specifici come l'età, il livello di rischio che siamo disposti a sostenere, il nostro reddito attuale e le prospettive future. Solo così possiamo costruire davvero un piano solido per la nostra futura sicurezza finanziaria. Non possiamo certamente limitarci a investire a caso e sperare che poi tutto vada bene. Tutti noi sappiamo molto bene che le istituzioni finanziarie offrono strumenti di previdenza complementare come ad esempio i fondi pensioni e le polizze, le quali però presentano non di rado alcune inefficienze e talvolta anche dei rischi abbastanza elevati. E per questi motivi io personalmente non li considero in grado di rispondere sempre adeguatamente alle esigenze previdenziali. I fondi pensione sono gestiti da intermediari finanziari e si basano sulla raccolta di contributi da parte degli aderenti che vengono poi investiti in diversi asset finanziari. Un'altra opzione comune offerta dalle istituzioni finanziarie sono le polizze assicurative a copertura pensionistica, i cosiddetti PIP. Queste polizze prevedono il versamento di premi periodici che vengono chiaramente investiti dall'assicurazione. Al raggiungimento dell'età pensionabile l'assicurazione corrisponde un capitale oppure una rendita all'assicurato. Però come sappiamo la gestione dei fondi pensione e dei PIP può comportare anche dei costi significativi come commissioni di gestione oppure di entrata e premi assicurativi elevati soprattutto se si desidera ottenere una copertura davvero adeguata. Ad esempio i costi medi per i fondi pensione aperti ammontano su base annua all'1,60% per gli azionari, all'1,30% per i bilanciati, all'1,08% per i garantiti e allo 0,99% per gli obbligazionari. Mentre per i PIP i costi medi ammontano sempre su base annua al 2,31% per gli azionari, all'1,87% per i bilanciati, all'1,47% per i garantiti e all'1,59% per gli obbligazionari. E naturalmente questi costi possono erodere una parte anche significativa del capitale accumulato nel corso degli anni influenzando negativamente il livello di rendita pensionistica. Però non sempre i costi sono l'unico parametro per valutare strumenti o prodotti finanziari. Infatti secondo il mio parere uno dei problemi maggiori è la totale perdita del controllo delle somme destinate alla nostra previdenza, senza contare che il sottoscrittore oppure l'assicurato a seconda del prodotto scelto potrebbero avere una scelta limitata o addirittura nessuna scelta in merito alle strategie di investimento adottate. Questo può comportare un'allocazione del capitale non adatta alla situazione strettamente personale, non è ottimale e quindi potrebbe portare con sé un rapporto rischio rendimento che è potenzialmente penalizzante rispetto ad altre soluzioni. Altro problema con questi strumenti dedicati alla previdenza è che non è possibile stimare ex ante il rendimento dell'investimento. Ad esempio il TFR ha un rendimento certo nella sua formulazione, 1,5% più il 75% dell'inflazione dell'anno precedente. Questo significa che l'unico variabile che incide sul rendimento è la componente inflattiva, che seppur parziale rende il rendimento del TFR un rendimento reale e non nominale. Come ho già detto in altre occasioni, con la previdenza non si scherza e destinare delle somme peraltro per un lunghissimo arco di tempo a risultati incerti secondo me va contro il primo principio su cui si basa la stessa esistenza della previdenza. Fondi pensione e PIP possono fare meglio del TFR? Beh sì, certo che hanno la possibilità di fare meglio così come hanno la possibilità, ahimè, di fare peggio. Le decisioni di investimento prese dal gestore del fondo possono influenzare in modo davvero significativo il rendimento finale del capitale pensionistico. Senza contare che, anche alla luce del recente caso di Eurovita, i sottoscrittori potrebbero trovarsi nell'impossibilità di riscuotere le loro somme investite. È proprio notizia di pochi giorni fa che i riscatti delle polizze sono slittati ancora in avanti e si ipotizza ora di riaprirli nel mese di settembre. Che fare quindi? La soluzione preferibile, e lo dico con cognizione di causa dopo oltre vent'anni di esperienza sui mercati, è rivolgersi alle obbligazioni. Meglio ancora se indicizzate all'inflazione per costruire e gestire il proprio fondo pensione personale. Questo approccio offre un rapporto rischio-rendimento estremamente favorevole, permettendo all'investitore di mantenere il totale controllo sui propri asset finanziari e sui loro rischi, riducendo inoltre i costi che si traducono chiaramente poi in un maggior rendimento finale. In particolare le obbligazioni inflation-linked, essendo legate all'andamento dell'inflazione, offrono una protezione intrinseca contro l'erosione del potere di acquisto nel tempo. Questo significa che l'investitore può quindi contare su un rendimento reale che tiene conto dell'effetto dell'inflazione sul valore dei soldi nel corso degli anni. Questo chiaramente rappresenta un vantaggio significativo e irrinunciabile, specialmente nel contesto delle pensioni, dove il mantenimento del potere di acquisto è di primaria importanza per condurre una vita dignitosa anche in età avanzata. Anche se non sono moltissime le emissioni indicizzate all'inflazione, possiamo comunque già effettuare una discreta diversificazione, sia per rischio emittente, sia per rischio tasso, oppure per parametro di indicizzazione e anche in area valutaria. Poi, integrando il resto del portafoglio con altri tipi di obbligazioni, abbiamo la possibilità di adattare il nostro piano pensionistico alle nostre esigenze e preferenze personali, tenendo conto del nostro profilo di rischio, ovviamente, del nostro orizzonte temporale e anche degli obiettivi previdenziali specifici. Già solo con titoli governativi di area euro e area dollaro, che poi siano zero coupon, tassi fissi o tassi variabili indicizzati all'inflazione, se del caso anche qualche corpo reti di buon pedigree, possiamo costruire e amministrare nel tempo un fondo pensione personale che non riserverà delle brutte sorprese. La praticità rappresenta un'altra caratteristica molto importante dei titoli obbligazionari, in realtà di tutti i titoli quotati, essendo strumenti facilmente accessibili, oggi come oggi, anche al risparmiatore privato attraverso il mercato finanziario e le varie piattaforme di internet banking o trading online, consentendo quindi agli investitori di acquistare e vendere quote con estrema facilità. Infine, last but not least, con un portafoglio obbligazionario possiamo stimare con estrema precisione, se addirittura non proprio sapere esattamente ex ante, il rendimento del nostro piano pensionistico. Questo chiaramente ci fornisce una maggiore confidenza, una maggiore sicurezza, un maggior controllo sulla futura rendita pensionistica, consentendoci quindi di pianificare in modo accurato ed efficace i nostri investimenti. E la cosa confortante di tutto questo è che non è necessario avere una laurea in economia o una filta di master in finanza, basta imparare a leggere le curve dei rendimenti, conoscere le caratteristiche di obbligazioni semplici come gli zero coupon, i tassi fissi, i tassi variabili o quelli indicizzati all'inflazione e saper fare dei semplici calcoli per valutare i rischi e calcolare o stimare i rendimenti. Vedremo nei prossimi video alcuni esempi pratici, ma nel frattempo per approfondire, se interessati, la conoscenza delle obbligazioni e imparare quindi a gestire quelli che sono i rischi specifici di questo mercato di questi titoli, si può dare uno sguardo al nostro percorso Bonmastery e al nostro circolo Academy, di cui lascio il link qui sotto in descrizione. Oppure si può guardare questo video in cui illustro una possibile strategia operativa che è proprio adatta a questo momento di mercato. Alla prossima!